Ad una settimana dall'installazione delle nuove panchine in marmo sul molo del Lido di Fano, continuano le segnalazioni da parte di coloro che, dopo una lunga passeggiata, avevano piacere di sedersi per riposarsi ed osservare il mare, ma che ora, a causa delle nuove sedute, si limitano a scrutare il paesaggio restando in piedi. Definite da molti scomode e poco funzionali, in quanto ad alcune manca lo schienale, il problema principale delle nuove sedute rispetto alle vecchie, secondo molti fanesi, è che soprattutto in inverno sono fredde, talmente tanto che qualcuno ha pensato di misurarne la temperatura con un termoscanner per mostrare la differenza con le vecchie e più calde panchine in legno. A rispondere alle numerose segnalazioni è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. Sono panchine che avevamo in magazzino da un anno. Nel frattempo abbiamo fatto dei rilievi con la ditta per la conformità delle panchine che erano quelle di legno che erano prima posizionate sul molo. Abbiamo riscontrato che la maggior parte non erano in sicurezza, in quanto tutta la salsedina le aveva danneggiate, per cui dovevamo per forza rimuoverle. Abbiamo pensato di poter posizionare queste panchine di fatto anche innovative, perché comunque hanno un design moderno, senza pensare magari a quelle che potevano essere le controindicazioni del caso. Per cui mi sono subito adoperata con l'azienda a richiedere di provvedere ad una seduta che mettesse in sicurezza un po' quella che è la parte che si bagna, richiedendo di mettere eventualmente delle listelle come quelle che sono sullo schienale e di provvedere a mettere degli schienali laddove non sono previste, perché ci sono panchine tutte aperte. Per cui questa settimana, penso forse o domani o lunedì al massimo, arriveranno qua, verificheremo insieme se questa cosa è fattibile, perché naturalmente poi ci devono essere anche delle conformità rispetto al design originale e provvederemo. Le segnalazioni che sono arrivate, ha poi continuato Brunori, non riguardano solamente le panchine, ma anche il manto della passeggiata del molo, che presenta alcuni punti ammalorati. Quando mi sono insediata la prima cosa che ho chiesto era proprio un preventivo per la messa in sicurezza di quella passeggiata e rispetto al preventivo che appunto contemplava un valore di 70 mila euro, mi sono sentita di bloccarmi perché io vorrei ripristinarla con un manto a mosaico, quindi con una passeggiata importante che non sia fatta dello stesso materiale in cui è oggi, proprio per dare un... perché quello è un luogo prestigioso, come diciamo noi tutti, per cui quell'intervento significativo andrà al prossimo anno, per il momento lo metteremo, tamponeremo diciamo quelle che sono un po' le parti più ammalorate. Infine l'assessore ha annunciato anche alcuni interventi che saranno fatti entro il mese di giugno in varie zone del Lido di Fano. La riqualificazione della cavea con una nuova illuminazione scenica ed il restyling del verde con la sostituzione dei pitosfori con delle palme ed anche in questo caso una nuova illuminazione. Metterò mano anche sul sottopasso del Lido dove non solo lo puliremo di fatto ma coinvolgendo anche la scuola lo abbelliremo nelle parti laterali con dei mosaici o disegni che appunto le scuole stanno, liceo artistico in questo caso sta lavorando. Oltre questo anche con una nuova illuminazione più potente per metterlo anche in sicurezza. Oltre questo anche con una nuova illuminazione più potente.